E' già stata qui? A Parigi? No. Frida non ha peli sulla lingua, ma lei la lascia parlare. Buongiorno, signora. Stefan ti ha raccontato che sono sola e malata? No. Comunque non disfare le valigie. Io qui non ti ci voglio per niente. Potrei essere le sue mani e le sue gambe. Puoi tenerti le gambe e anche le braccia. Ma ti sei vista? Sii gentile con lei, potrebbe mollarti. Vaffanculo! Vaffanculo, tu! Beh, hai visto? Ora va meglio. Sì. Che lavoro fai a Parigi? Faccio la badante per la signora Murat. Frida non ha mai mantenuto i rapporti con gli altri Estoni. Peccato. Ecco qui la colazione. Mi vuoi far mangiare della plastica? Un vero croissant si compra dal panettiere. Ho fatto una macchia. Ora basta. Se vuole farla finita veramente, allora si butti giù. Amo troppo il mio corpo per farlo fracassare sul marciapiedi. Sono un mostro. Fai di tutto per sembrarlo. Dopo mio marito, è l'uomo che ha contato di più nella mia vita. Non ha più nessuno tranne lei e me. Solo lei e me. The Lady in Paris. Continua.